Vale più dell'oro di Elena. Laura lo sa di essere fortunata. Alberto è il figlio del farmacista del paese. Hanno una casa in città e la villa in collina ai Lamberti. Hanno una multiproprietà in Spagna e un appartamento in un palazzo signorile in Riviera. Ma è davvero così importante? Io non vedo l'ora di mostrarti ai parenti che ancora non ti conoscono. Spalle allargate e petto in fuori, Alberto sembra un pavone che si prepara a fare la ruota. Mostrarmi? Come un vaso cinese? Esatto, quello di maggior valore. Voglio che vedano chi sarà la regina della mia casa e la madre dei miei figli. Beh, possiamo raccontare loro qualcos'altro. Che mi sono diplomata con il massimo dei voti, per esempio. Che ho vinto la medaglia d'argento ai campionati nazionali di matematica. Sì, sì. Alberto svolassa la sua manona davanti al viso. Come ad allontanare un insetto fastidioso? Ma queste sono sciocchezze. Sciocchezze? Raccontano chi sono, quello che voglio diventare. Direi che... Ma che diventare e diventare? Non c'è niente da fare. Si contano sulle dita di una mano le volte in cui Laura è riuscita a completare un discorso da quando sta con Alberto. Tu sei una donna e in quanto tale devi aspirare unicamente a camminarmi a fianco. Questa è l'unica cosa che conti davvero. La fierezza che ora illumina il volto di Alberto è direttamente proporzionale alla profondità della crepa che si è disegnata sull'orgoglio di Laura.